Aha! Original Calafro, insieme a Reggio a Canestro, originale Combination, direttamente dal sud. Venga! Se vuoi lo sporti, il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro. Tirala da te, sai che cosa c'è? Il portale più prestero de modè. Se vuoi lo sporti, il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro. Tirala da te, sai che cosa c'è? Il portale più prestero de modè. Dal web alla burba, la folla veduta, gente in doppia fila ma non scatta la mucca. La palla nel centro, un solo gesto, un terzo tempo, un troppo netto. In tutte le squadre del tuo circondario, per ogni avversario, sarà un calvario. Calabresi NBA, se ci sei, Reggio a Canestro e Calafro, originale. Se vuoi lo sporti, il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro. Tirala da te, sai che cosa c'è? Il portale più prestero de modè. Se vuoi lo sporti, il posto è questo, canta insieme a noi Reggio a Canestro. Ciao a tutti con Touring Basket, io sono Giovanni Maffrici, accanto a me c'è Carlo Vedere, chiaramente all'altra parte del vetro. Ciao a tutti. E Gioacchino Granata, questa volta puntualissimo. Puntualissimo. Prima di te, eh? Il mio microfono fa un po' di... Un attimino. Vero? Sì, 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 raggiormente. Mi state censurando? Vai tranquillo. Io non ne ho questionato. Fantastico. Allora, questa sera chiaramente parleremo di precampionato, della viola Reggio Calabria, della VIS che partecipa al campionato di INC e non solo, parleremo di impianti, una delle note dolenti di tutto il mondo sportivo della città di Reggio Calabria. Chiaramente un occhio su tutto il movimento, anche perché le notizie che piovono non sono assolutamente positive. Quelle positive invece arrivano dall'Italia, che giovedì sera giocherà una super partita. Siamo reduciti chiaramente da una striscia infinita di risultati belli, appassionanti, di partite bellissime. E' un grande sport per la palla canestro, Giochino. Sì, di ieri l'impresa fresca fresca della vittoria sulla Spagna. La Spagna al numero due del ranking mondiale, cioè dietro solo agli Stati Uniti, con una formazione super, anche se era assente Pol Gasol e Sergi Baca, comunque una signora squadra, è un'Italia trainata direi da Nino Bar... Eh no, volevo dire da Cusini. Magari! La prima azione ha dato, direi, un'immagine che poi è stato un po' il tema di tutta la partita. Cioè gli spagnoli che provavano col talento ad andare avanti, con la schiaccia di Rudy Fernandez al primo possesso, e Cusini ha detto, per questa volta a casa mia non si entra. Ma fammi capire, tu sei un esperto di corsi di allenatore, tesserini, prestatessera e cose varie, ma fammi capire, ma Cusini ha fatto un corso con Olajuan, con Mutombo, che è successo? Beh, Cusini è la prova che a volte il talento, il talento può non esserci quando c'è l'abnegazione, quando c'è la fiducia da parte dell'allenatore, quando c'è la voglia veramente di sbucciarsi le ginocchia, perché veramente Cusini è un giocatore, possiamo dire, costruito... Fisicamente è la brutta copia di Nino Barrera. Sì, sì, è incredibile. Ah, quella tigna! Però veramente, a parte tutto, una grinta, ma un po' come tutta l'Italia, magari non ha i centimetri, non ha i chili delle altre nazionali, forse la nazionale è più leggera dell'europeo, però si sta facendo valere. Io onestamente ho notato vari protagonisti, da Toma, Radori, Gelinelli, però stavo proprio dicendo questo, sinceramente Gentile è un talentone. Secondo me lo vedremo dall'altro lato dell'oceano tra poco. Post Twitter della settimana, primo post per Peppe Poeta, il suo fantastico tweet, proprio dopo la vittoria contro la Spagna, rievocando ricorsi calcistici, ha detto, la prossima volta portateci anche Xabi e Iniesta. Vabbè, direi che l'umorismo all'interno del gruppo, non manca dire di tutto il movimento cestistico, abbiamo un non so che di simpatico. Carlo, e tutto questo chiaramente diventa un plus per il movimento, una sponsorizzazione naturale e soprattutto gratuita, per un basket sempre più malato e accorto di idee. Allora, questa è la risposta un attimino alle tante critiche che si muovono circa il movimento della pallacanestro a livello nazionale. No, bravo, volevo dire proprio questo. Spero che questi risultati, sia dell'Under 20 che dell'Under 16, non facciano pensare che è un movimento sano, perché comunque, storicamente, comunque il nazionale ci vanno i migliori, i giocatori ci sono, 20 giocatori di talento ci sono in Italia. Il problema del movimento è tutto il contorno. Cerchiamo, infatti, cerchiamo di non troppo enfatizzare il grandioso, comunque grandissimo risultato che sta ottenendo la nazionale maggiore, sempre sottolineando anche il risultato dell'Under 20 con l'Europeo e anche dell'Under 16 con il quarto posto. Della nazionale femminile. Allora, questi risultati sono straordinari. C'è però qualcosa che non va, che comunque gli addetti ai lavori, a mio modesto avviso, quindi tutto lo scetticismo che c'era circa il movimento nazionale viene sì smentito dagli straordinari risultati che stanno ottenendo in maglia azzurra questi grandi giocatori, quindi viene da pensare ma allora va tutto bene? State sbagliando concezione, state sbagliando opinione circa tutto il movimento. Però, secondo me, a livello generale c'è qualcosa che non va. Si percepisce, come diceva Gio prima, si percepisce qualcosa, un qualche intoppo che ovviamente deve essere, adesso trovare un motivo per cui qualcosa non vada bene, perché ad esempio la nazionale va benissimo però troviamo sempre formazioni a livello di serie A formate da nove stranieri e un italiano. quindi tutti gli italiani vanno a svernare, diciamo in questo momento, non so se si può usare questo termine, nelle leghe minori, quindi in DNB, DNA, che dir si voglia. Però sempre in serie A vediamo pochissimi, rarissimi italiani. A tutti gli italiani. penso che negli ultimi 30 anni abbia sempre ottenuto ottimi risultati a livello di europei, ricordiamola dalla nazionale di Vialli e Mancini fino all'ultima che è arrivata veramente con degli ottimi risultati. Ha lanciato tanti giovani, altri poi non si sono affermati, però in vari momenti, come fisiologico che sia, le squadre di club magari non rispecchiavano come è stato nei primi anni a cavallo a fine anni 90, a primi anni 2000, come si sta vedendo un po', a parte il caso dell'Inter del 2010, negli ultimi anni in Champions League, non è che si sono ottenuti chissà quelli risultati. Quindi che succede? Che sì, la nazionale giovanile, o anche quella maggiore, si è fatto bene con Prandelli, diciamo gli europei arrivati in finale, con Federation Cup, tutte queste cose qui, però questo non significa che tutto il movimento sta bene. C'è qualcosa che non va, si percepisce qualcosa che non va. Esattamente, a livello anche di serie minori nelle minors del calcio, si vede che ci sono delle difficoltà, vuoi per la crisi economica, vuoi per delle regole anche lì un po' particolari, per tanti motivi. Stesso discorso nel basket, è chiaro che se tu esamini una vittoria di un mondiale under 20, di un europeo under 20, come è successo per l'Italia, capitanata del nostro Marco Laganà, penso che siamo... Tutto rosi e fiori. Tutto rosi e fiori. No, non è così, direi che c'è uno un grande allenatore, come c'è un grande allenatore nella nazionale under 16, come un grande allenatore quello della nazionale maggiore. Ci sono dei grandi giocatori, tra cui il nostro Laganà, così come Datome o Bellinelli o Gentile, così come il nostro Valerio Costa o la Torre nella nazionale giovanile, ma oltre a questo, oltre alla bella copertina, bisogna esaminare quelle che sono le difficoltà. E' una bella confezione. E' come ad esempio, una piccola parentesi, è come l'aspetto, diciamo, della diffusione della pallacanestro, ossia la RAI, che manda all'ultimo minuto, si scopre di aver acquisito questi diritti per una manifestazione che sta creando entusiasmo, comunque, e che comunque è vista solo sul digitale terrestre, sul decodere criptato, poi comunque... e il segnale va e viene... La cosa bella comunque che si potrebbe... Questo è tutto il contorno, scusate, di cui non si parla e che dovrebbe comunque essere coltivato insieme alla bella copertina dei risultati. Speriamo che comunque, infatti, da questa copertina comunque il mio auspicio è che comunque si prenda spunto e facciano da traino per tutto il movimento. Quindi, questi ragazzi hanno ottenuto questo straordinario risultato. Prendiamo fiducia, iniziamo a lavorare. Quindi solo questo qua. Adesso parleremo chiaramente della situazione in pianti, anche del basket, soprattutto del basket, e anche della della Reggio Calabria. Dopodiché, parentesi sul trofeo Sant'Ambrogio, dopo la pausa pubblicitaria. Questo è Touring Basket, ragazzi, è tempo di basket mercato. I roster sono quasi tutti completi, però c'è qualche sorpresa. Giovanni, allora? Carlo, ci devi dire qualcosa. Eh no, nel senso, stavo aspettando questa bomba che hai lanciato sul sito Reggio Canestro, volevo sapere qual era. Gio, tu ne sai niente di questa bomba. No, io vengo solo informato da te sulle notizie di mercato, politiche, impianti, tornei, frizzi e latte. E sconti, sconti è stato Carlo. Probabilmente c'è un gradito ritorno della guardia Dario Costa da Matera. Probabilmente lo vedremo qui di ritorno dalla 2 in forza, presumibilmente, alla vis del dirigente di Bernardo. La vis che questa sera alle ore 20 sarà impegnata in amichevole in casa dell'amatori Messina, formazione che dopo tanti anni di militanza in DNC ha fatto ritorno in C regionale. Il roster è praticamente lo stesso, eccezione fatta per Peppe Carnazza, nuovo acquisto proprio della vis Reggio Calabria. Per la vis, Dario Costa in arrivo dalla Lega 2 Silver di Matera è veramente un grande acquisto. Si va a ricomporre tutto il nucleo della nuova gioia dell'anno scorso fondamentalmente. Posso dire che non sono soddisfatto di questa cosa. per il ragazzo diciamo. Concordo. Nel senso che comunque sarebbe stato, non so i motivi ora, a parte le battute, non so i motivi del... Quello è il mio... Lascialo come sta la mia cuffia, grazie Gianni. Ti partono le orecchie. No, a parte di tutto, a parte di scherzi, dicevo, quando avevo saputo, anche l'avevo saputo diciamo, tra virgolette, in anticipo, parlando con Gianni Benedetto, allenatore del Matera, che avrebbe avuto nel suo roster quest'anno un altro reggino come è stato l'anno scorso per Antonio Smorto. E, avendo visto, avendo avuto il piacere di chiacchierare poi quest'estate proprio con Antonio Smorto, avendolo visto molto maturato dopo l'esperienza, soprattutto a livello umano, perché però non avevo avuto occasione di vederlo in campo, ma molto maturato dopo l'esperienza da Under lì a Matera. Mi auguravo che questa cosa potesse essere una buona opportunità anche per Dario Costa. È tornato e ovviamente... Anche perché non ha neanche iniziato poi questo qui, la lacrima è proprio questa. Che magari si sarebbe potuto mettere in mostro in un campionato veramente importante. Però diciamo che a questo punto direi che risolve anche un po' di problemucci a livello di roster anche alla vista perché a questo punto il reparto guardie si può ritenere completo. Stesso discorso lo si può dire ai playmaker perché Dario può anche giocare da playmaker ma comunque c'è Claudio Vozza almeno a quanto si dice anche se come insegna Giovanni Maffrici sul reggio a canestro mai dire mai perché le trattative che sembrano fatte possono saltare anche Fortunato Barrile dovrebbe far parte del roster della vista e dare appunto alternarsi nel ruolo di playmaker. Assolutamente anche perché l'accordo tra Viola e Vista sembrava una cosa fatta invece qualcosa è saltato a questo punto si va rafforzando forsemente l'accordo tra Viola e Botteghelle una squadra di C regionale come la Botteghelle e Basque potrebbe attingere molto bene proprio dalla Viola Brandon Migliani si dovrebbe essere il colpo super. si che non so cosa faccio in C regionale sinceramente con otto squadre dove è che vado a giocare pure sono nove sono nove ricollegandomi alla lacrimuccia che scende quando vedo un ragazzo un attimino talentuoso fare delle categorie un attimino così non adatte quantomeno dal mio modestissimo punto di vista anche Brandon secondo me in C2 è davvero uno spreco uno spreco inaudito. ricordiamo le formazioni che prenderanno parte alla C regionale la novità della settimana scorsa è il forfait inaspettato e coicente della Virtus Basket la Mezza aspettiamo insomma risvolti positivi eventuali colpi di scena è un problema istituzionale un rapporto abbastanza controverso tra la formazione bianco rossa e le istituzioni il comunicato stampa parla chiaro forfait per una delle veterane del campionato di C regionale parteciperanno al campionato regionale il massimo campione regionale della Calabria le formazioni di Crotone e Bimbo un basket trend che sulla carta dovrebbero partire con i favori del pronostico il Villa San Giovanni anno importantissimo sia per il Crotone che per il Villa perché festeggiano i 20 anni di attività e poi Virtus Caranzaro Botteghelle Basket Basket Rosarno Basket Novagioli Scuola di Basket Viola e Pollino di Castrovillari ovvero tutte formazioni che chi più chi meno dovrebbero scendere in campo con formazioni assolutamente giovanili una sorta di under 19 under 21 chiamiamola così allargata per il resto perché comunque vuoi le sinergie di cui parlavi vuoi i costi di un di gestione appunto di parametri palazzetti andare andare a giocare con delle formazioni infarcite di giovani sicuramente permette alle squadre di risparmiare è un buon trampolino di lancio sicuramente per appunto i ragazzi stessi però di contro la crescita che parecchi giocatori hanno avuto era quella di cimentarsi da giovani contro avversari più esperti se il 90% delle squadre è fatto di giovani della stessa età magari quel miglioramento quell'esperienza che si dovrebbe fare in questo tipo di campionati verrebbe meno però a proposito di campionati alle minors ma a Pellaro qualcuno farà la squadra ne parliamo con il nostro ospite Armando Russo direttamente dalla Forte Pellaro direttamente da una protesta inedita per quanto riguarda la vicenda palazzetto il palacolor di Pellaro che purtroppo per la città di Reggio Calabria non è l'unico anello debole di questa catena abbastanza dolorante buonasera Armando ciao ciao buonasera a tutti allora che novità abbiamo che è successo dopo questa protesta ci potrebbe essere qualche risvolto positivo e guarda in tutta sincerità la mattina stessa della protesta come hai detto tu inedita partendo da casa nostra per poi Armando perdonami inedita finora sola ed unica purtroppo ti dico una cosa Carlo noi abbiamo avuto pazienza perché noi abbiamo fatto diversi incontri al CONI con le federazioni con il CONI stesso e noi ci siamo affidati completamente a loro totalmente giunti a settembre all'inizio dell'attività o sperando di poter iniziare la nostra attività come ogni anno ormai da anni e anni ci siamo ritrovati senza capo senza porte chiuse negli uffici ai piani alti ai piani bassi a qualsiasi piano tanto da voler farci sentire in maniera diversa in maniera territoriale intanto portando i nostri tesserati in piazza facendo vedere che comunque sia noi il movimento ce l'abbiamo e lo vogliamo continuare ad avere tariffe basse tariffe alte è una cosa che affronteremo in divedere e niente questo ha fatto sì che noi potessimo avere un incontro il giorno dopo cioè il giorno dopo dico con i commissari in persona per cui il primo step è stato è andato a buon fine il problema è che è stato che i commissari ovviamente hanno mantenuto la loro linea dura cioè chiusura totale in agibilità e in agibilità resta fino a quando non verranno fatti i lavori di ripristino noi eravamo stati praticamente tranquillizzati del fatto che addirittura il palazzetto di Pello e il palazzetto di Catona erano i fiori e l'occhiello perché sono stati distanziati dei soldi comunali per ristrutturarli e farli praticamente nuovi ma io diciamo che per passione faccio anche l'ingegnere ogni tanto e io dico che a qualsiasi persona avessero detto che facevano il palazzetto nuovo e io in primis mi sono cadute le braccia a terra perché sapendo i tempi biblici e i lavori pubblici ha detto noi nel palazzetto rientriamo nel 2017 addio ti sei mantenuto ti sei mantenuto comunque ottimista esatto esatto per cui noi abbiamo fatto questo primo step ora il secondo è abbiamo parlato anche col presidente della provincia il presidente Raffa che ci ha garantito un ulteriore incontro alla sua presenza non so quello che possa ottenere più di quello che già abbiamo ottenuto noi cioè nulla ma non ci resta che sperare sinceramente non ci resta che sperare tra le altre cose sempre per la stessa professione di cui sopra noi abbiamo fatto richiesta allo scatolone che dovrebbe essere assegnato alla federazione e quindi abbiamo fatto la richiesta diretta al presidente della bozzetta ad oggi io so che il palazzetto scatolone ancora non è stato neanche assegnato alla federazione per cui per gli stessi tempi di cui sopra se verrà assegnato anche domani con i tempi minimi necessari per fare un impianto elettrico nuovo e un impianto igienico sanitario e con voi parlo di cose note di quello che è l'occasione dei fatti io non so come si possa ottenere in tempi brevi intendo dire ottobre novembre lo scatolone a novembre poi piove e quindi no fino a marzo è tutto il tempo a marzo arrivano le barche ragazzi attenzione che non ci confondiamo Armando proprio per il tuo hobby di ingegnere una domanda ma i motivi della impossibilità di omologare il palazzetto di Pellaro anziché quello di Catona o tutti gli altri che sono quali sono le motivazioni tecniche nel senso cosa manca? guarda durante l'anno sono stati fatti diversi trovalluoghi e io avendo a che fare direttamente con l'ufficio sport c'è sempre stato detto anche dagli architetti preposti alla sicurezza piuttosto che all'agibilità appunto dei campi che devono essere strutturati in primis in pianto elettrico e in pianto igienico sanitario a Pellaro in più è stata predisposta una somma di circa 200.000 euro per rifare addirittura la pista gli spalti le porte di sicurezza e tutto il resto ok la somma minima invece necessaria quella appunto impianti luce impianto elettrico e igienico sanitario sono stati preposti per gli altri impianti quale scatolone adesso non ricordo gli altri quali sono il palloncino piuttosto che gli altri impianti che non sono comunque agibili perché gli impianti comunali richiedono un'agibilità che deve essere diciamo confermata dopo ogni 10 anni per cui se viene meno questa agibilità il palloncino viene chiuso perché burocraticamente non ha l'agibilità vi assicuro che Pellaro e voi ne siete testimoni quanto me è più agibile rispetto a parecchi pallazzetti che verranno dati in gestione alla FIP vedi lo scatolone su tutti anche altri sì sì anche altri Pellaro ha delle uscite di sicurezza antincendio abbastanza visibili e conosciamo tutti sicuramente probabilmente è meglio Pellaro e una domanda ma Pellaro ha risposto compatta verso questa protesta o qualcuno ha detto no andate avanti voi che magari arriviamo dopo no 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 assurdamente noi abbiamo contattato e siamo stati presenti in luogo con tutte le associazioni sportive perché lo stesso problema ce l'ha avuto anche il campo di calcio lo storico campo di calcio di Pellaro in cui la Pro Pellaro non ha potuto neanche incominciare la sua attività in quanto inagibile per cui questa è una situazione che riguarda tutte le associazioni sportive di Pellaro non credi che sia un po' paradossale che protesti solo Pellaro e tutta Reggio città che è alle prese con pentimele eccetera eccetera potremmo fare una bella lista della spesa ancora è ferma completamente allora guarda Giovanni per essere proprio chiari noi avevamo pensato di fare una cosa tutti insieme sotto Palazzo San Giorgio però mettere insieme tante teste ed essere sotto Palazzo San Giorgio tutti insieme mezza mattinata e poi ce ne andiamo tutti a casa probabilmente avrebbe fatto un po' rumore in più perché sotto Palazzo San Giorgio magari qualcuno si affacciava ma questo è il prossimo set cioè noi non è che abbassiamo la testa noi intanto l'abbiamo fatto a casa nostra probabilmente lo riferemo a casa nostra e poi andiamo sotto Palazzo San Giorgio Armando ma da da istruttore educatore che cosa hai detto ai due ragazzi che si ritrovano senza un palazzo questa è una bellissima domanda io sto ricevendo telefonate in testa dalle persone e mi dicono ma quindi ma quindi ma quindi i miei under 17 io devo portarmi allo scatolone a 800 euro per farle allenare una volta con tutto quello che è io non so quello che sarà faccio il campo a casa mia all'aperto e si torna come ai vecchi tempi come dietro le scuole elementari forse voi qualcuno di voi come nel 94 per capire esatto esatto io ci ho giocato anni all'aperto per cui oggi è un po' più difficile proporlo ma è una delle idee che ci sta avvenendo in testa sinceramente Armando potresti prendere tutti i tuoi tesserati darglieli direttamente ai commissari e fargli fare allenamento a loro e sai che cosa mi è venuto a pensare a me è venuto a pensare che io vorrei che alle prossime elezioni si portasse qualcuno che ha i figli dell'età papabile per poter giocare così capiscono davvero quello che è il nostro spirito lasciati allo sbando onestamente io manderei tutti i miei figli perfetto io non posso fare più attività fategli voi attività a questi ragazzi esatto come la filo no come c'era una foto simpaticissima su facebook di un un signore che ha scritto un cartello non si può giocare a pallone nel giardino e sotto i ragazzi avevano commentato vabbè allora ci trochiamo cioè ora questa è una battuta però simpatica però non è troppo lontana d'andata in che senso lo sport si è sempre detto che è un veicolo per aggregare educare allora tu sei avvocato giusto ma lo sport è un diritto ovviamente cioè è previsto un diritto ma ci sono tanti di quei diritti che vengono calpestati in vari anni no ma parliamo della cosa il discorso qual è che magari un ragionamento alla rigitana diciamo così però bisognerebbe anche capire quali sono le esigenze reali delle persone del popolo trovare le soluzioni tu contemporaneamente vuoi non dai l'agibilità a determinati campi perché la legge dice così ok rispetto alla legge ma non mi puoi aumentare i prezzi a smisura in contemporanea per tentare di prendere 4 lire da un altro in merito a questo proprio proprio in merito al servizio al cittadino a noi è stato detto a chiare lettere che il servizio al cittadino dove lo sport dovrebbe ricadere in questo servizio deve essere pagato dovrebbe essere pagato secondo normativa per il 36% da chi pratica lo sport o da chi fluisce il servizio e dal 64% dall'ente comune facendo due conti come si vuol dire a casa mia alla femminina il 36% noi non lo copriamo più del 36% noi copriamo il 100% perché 800 euro a turno per 25 turni settimanali sono circa 20.000 euro 20.000 euro è la spesa stimata per la gestione del palazzetto tra luce custodi e tutto il resto quindi noi non paghiamo il 36% dei servizi al cittadino noi paghiamo il nostro 100% quali sono gli altri servizi al cittadino che i commissari vogliono fare pagare a noi questa è la domanda è un ragionamento proprio da commerciale hanno fatto sì matematico proprio dove possiamo prendere i soldi noi possiamo prendere quelli che hanno la passione per farlo Armando scusami scusami la battuta ma qualcuno di voi ha portato la foto degli impianti a questi commissari sanno come sono fatti dentro no 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 la nostra proposta mi hai anticipato ancora una volta Giovanni perché la nostra proposta è venite con noi e vedete se con 20.000 euro voi riuscite a fare gli impianti igienico-sanitari dello scatolone per chiedà se voi riuscite a farli con 20.000 euro io cambio mestiere lo scrivo è una cosa che comunque combattiamo da due anni questa situazione all'impiantistica però passiamo sempre per personaggi scomodi a noi Carlo hanno messo tre anni fa i condizionatori dentro lo spogliatoio cioè a noi hanno messo dentro lo spogliatoio di bello di condizionato però non c'è il boiler per raccogliere l'acqua quindi noi in estate ad aprile siamo senza acqua nello spogliatoio però ci hanno messo i condizionatori ah ok a dicembre se si deve favorire una titta di impianti piuttosto che un'altra titta piuttosto che queste sono cose che esmano dalla mia competenza a me interessa soltanto che io possa fare entrare i ragazzini non fargli prendere il sedano o piuttosto che il tipo e permettermi di fare l'attività come ho fatto per passione perché un euro non lo vediamo ormai dai tempi che furono per cui non capisco cosa si possa tenere da noi Armando speriamo che comunque la tua protesta abbia un seguito anche che risvegli le coscienze delle società delle società regina ti siamo vicini ti aiuteremo in qualsiasi modo assolutamente ti salutiamo e speriamo di sentirsi sicuramente in momenti più più fruttuosi grazie ragazzi in bocca al lupo e bravi 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 ciao Armando grazie questo era Armando Russo dirigente coach della forti di Pellaro rappresentante di tutte le formazioni sportive non soltanto della pallacanestro di Pellaro e insomma queste sono pagine tristissime della città di Reggio Calabria non soltanto di Pellaro che è stata negli anni un polo sportivo da solo spessore non solo nel basket anche qui per farvi un esempio il signor Cilea della pallavolo è una sorta di istituzione a Pellaro ha formato fior fior di giocatrici il problema di fondo è che le risposte sono sempre negative porta in faccia nonostante una protesta pacifica per carità e la città non risponde finiremo tutti avanti all'Xbox o alla Playstation a navigare su Facebook senza un canesso una retica pallavolo o un campo da calcio sei contento Gio? si si ormai si perché ho 40 però a me dispiace per quelli che veramente lo dico che tra regolamenti tra parametri tra costi degli impianti tra economia eccetera non si possono godere lo sport qualunque sia il rugby la pallavolo il calcio che a 21 anni 22 anni sono costretti ad abbandonare uno sport che è la cosa più bella del mondo ma qualsiasi tipo di sport qualsiasi tipo di sport c'è lo spogliatoio i compagni il sudore la fatica la stanchetta il risultato a 20 anni a 21 anni lo devi abbandonare di tutta questa vicenda quello che più mi quello che più mi dispiace allora per carità i commissari devono fare il loro lavoro hanno trovato a loro dire una situazione disastrosa quello che più mi duole è l'analisi che hanno fatto di questi impianti a livello di ragioniere allora io l'abbiamo detto pure la settimana scorsa io sono felice l'ha detto lo stesso Armando io sono felice di pagare per carità non voglio che tutto mi sia dovuto dal cielo la la mana dal cielo voglio il miracolo perché io sono meridionale io sono calabrese quindi tutto è contro di me io voglio pagare però ma questi servizi alla persona ma quali sono allora io voglio far pagare di più allo scatolone perfetto voglio andare allo scatolone a fare un sopralluogo o quantomeno guardo su internet ne abbiamo messo di fotografie a suo tempo quando ci fu se dovessero andare a guardare allo scatolone i commissari darebbero i soldi a noi che abbiamo il coraggio di andare a giocare vado a pentimele faccio un sopralluogo a un certo punto metto una mano sul cuore ma dio santissimo ma devo far pagare veramente il 400% delle persone io guarda mi immagino quei poveri immigrati l'abbiamo detto pure l'anno scorso non avrei neanche fatto dormire quei poveri martiri degli immigrati che hanno vissuto quella situazione ad agosto allo scatolone a più battute non solo ad agosto ma sì sì a più riprese faccio un sopralluogo vedo che cos'è e come non lo so pagare al supermercato all'ingresso appena entro al supermercato ma scusa vorrei comprare soltanto no no devi pagare cioè andate a fare un sopralluogo guardate la condizione pietosa ma Carlo purtroppo stiamo facendo un discorso ci stiamo parlando addosso no no inutile perché purtroppo ci sembra purtroppo è la proiezione il modello cittadino di quello che è stato la nazione con Monti di turno ti ripetisco poi sottolineando cioè tentare di trovare delle soluzioni ammazzando di tasse di costi eccessivi le persone anche per fargli soffrire di servizio minimo non è la sofferenza mi ripeto io voglio pagare io cioè come dire è un obbligo mio pagare se voglio soffrire di una struttura pubblica però signori ma per che cosa sto pagando sto pagando per quattro lamiere e per due bagni senza water sto parlando dello scatolone con i buchi e ancora con la struttura con la struttura in legno con la struttura in legno che ancora ci sono quei legni degli anni 50 l'unica cosa che è cambiato la pitturazione del pavimento dopo di che piove all'interno di un impianto elettrico poi l'altra cosa che volevo dire ma vi ricordate ogni volta come la Sadella 106 ogni volta vi ricordate di fare i lavori a inizio campionato a ottobre novembre ma perché non li fate durante l'estate quando c'è un periodo di calma e non piove come la Sadella 106 appunto ogni volta fanno i lavori di ammodernamento della Sadella 106 in estate non li fanno in inverno non li fanno in inverno parentesi parentesi aspettiamo la sera la barzelletta più esilarante del mondo sportivo calabrese non solo il pala 20 mele dopo lo spot Giovanni vai clima di precampionato anche quest'anno senza il pentimele che è diventato un po' la barzelletta dell'intentistica sportiva calabrese non solo un pentimele che doveva essere consegnato a ottobre esattamente il cronoprogramma diceva così l'ex prefetto Panico aveva detto così purtroppo i suoi pronostici non sono stati rispettati dovrebbero essere state aperte le buste nella giornata di ieri ancora non abbiamo il comitato c'erano le buste il comitato il vaso cinese che è sembra Magalli i fatti vostri i fatti vostri esattamente ma non non cioè sembra diciamo poco professionale la parte nostra che dovremmo essere un po' la voce del popolo in questa ma io non so non saprei che dire sinceramente una cosa che va avanti da tre anni no è un anno e mezzo ma è cioè è l'unico impianto cioè un impianto all'avanguardia è uno dei pochi che abbiamo in città ed è stato costretto l'unico impianto per il proprio si sportivo poi per altre per altre tematiche ed è chiuso per una cosa che in un'altra città per lo stesso evento della stessa cantante tra l'altro complimenti è stato risolto dopo tre mesi cioè questa è la testimonianza cioè questo spiega tutto spiega tutto siamo una città una città che non è salvezza negli anni a Palaventimele non si aspettava altro che il trofeo Sant'Ambrogio passiamo alle buone notizie per vedere insomma la Viola come stava messa c'è chi ha visto Ginobili per farvi capire alla prima giornata di campionato e non solo e chi ce l'ha portato? il nostro ospite Cesare Sant'Ambrogio buonasera buonasera allora location modificata si giocherà al centro Viola dico bene Cesare si si il Botteghelle è in fase di ristrutturazione come sapete tutti e non ci hanno garantito che per il Tuno sarebbe stato pronto quindi abbiamo cercato di una location l'unica location possibile alternativa era naturalmente quella della Viola che si è subito messa a disposizione ricordiamo le date del gli orari del sabato e domenica sabato e domenica alle 19 sarà la prima partita dunque il sabato aprirà la Viola contrariamente a tutte le altre ridizioni facciamo aprire la Viola che giocherà contro Barcellona la seconda partita sarà il Matera contro il Capodorlando l'Olandina quindi due avversari diciamo di Lega 2 Silver cioè del girone della Viola appunto la Viola stessa è Matera di Gianni Benedetto una Matera che tu conosci bene per aver giocato lì e poi Barcellona del tuo amico Antonello Riva è il Capodorlando allenato da Pozzecco che direi che magari non so sei amico tu ma con cui ti saresti trovato bene a giocare vabbè diciamo che ci conosciamo amici è una parola grossa rispetto a quello che è però non vorrei non dobbiamo dimenticare oltre a Pozzecco c'è Paso Basile poi c'è Soragna insomma c'è Nicevic sai la squadra non è che sia bruttissima se uno non guarda onestamente l'età alla grafica diciamo però io li ho visti io so quest'anno sono stato alla presentazione a Capodorlando e c'è un entusiasmo incredibile giustamente giustamente io spero che tengano perché sarà una bella una bella battaglia perché sia Barcellona che Capodorlando insieme a Torino credo si propongono come eventuali pretendenti alla prima poltrona per accedere direttamente alla Lega 1 e della viola che ci dici Cesare? la viola niente io la vedrò venerdì sabato la vedrò sabato per la prima volta sono molto curioso di questi due americani di cui si dice un gran bene ho visto che hanno rinnovato molto anche se poi diciamo è rimasta la parte il cuore dell'anno scorso che io ho sempre identificato in Marco Caprari e niente hanno preso Sordino che mi sembra un buon play secondo me hanno fatto Ponticello e una vecchia Volpe Ponticello e una vecchia Volpe quindi si è costruito una squadra che secondo me sarà la vera outsider del campionato Cesare torniamo torniamo al torneo 41esima edizione se non sbaglio Sì 41esima edizione siamo a tutti gli effetti la seconda manifestazione del genere in Italia dopo il Lidio delle Rosi di Roseto degli Abruzzi è una grande soddisfazione nessuno avrebbe pensato che saremmo giunti a questo traguardo anche perché il nostro obiettivo era arrivare ai 40 ma sai com'è poi beh i 40 sono i nuovi 30 i vecchi abbiamo fatto 40 facciamo 41 esatto senti una domanda in chiusura in tutti questi anni ormai veramente 40 anni quanti giocatori super abbiamo visto in questo torneo e facci un paio di nomi dai facci un contesto voi Ginobili l'avete nominato voi e quindi dai te lo risparmiamo Brian Sciolo l'ominio io perché è il mio preferito ecco Ferri Benni Ferri Benni Ferri non viene nemmeno uno scarso poi c'è stato a me piace moltissimo mi ricordo Terrell Dawkins quello del Torino che non era il pivottino unica c'aveva un problema con le schiacciate i canetti diciamo tendeva a romperli io sto parlando di gente che vanno al di là della viola perché dovremmo nominare Volko Delfino Montecchia gente che si è fatta rispettare anche in altri in altri contesti poi abbiamo avuto molti di voi forse non se lo ricorderanno nemmeno ma Valdi Valtes che era un lituano che è venuto con Riga che era uno della nazionale russa quando era ancora quelli che facevano tremare facevano tremare la nazionale americana poi gli Stati Uniti infatti poi c'è stato George Bucci la mano sacra che è stato da poco inserito come si chiama Mano Santa Mano Santa ma cos'è che è stato adesso inserito nella mano io ho una foto bellissima con Oscar che era un grande era anche umile non so ma poi ce ne sono tantissimi guarda perché lui ti conosceva e si sapeva che tu tiravi meglio di lui ero la magosa italiana capito due cannonieri la risposta la risposta con la risposta di Santa Caterina ecco bravo al Brasile ma è così guarda io poi Dalipacic il maestro Nikolic Bianchini guarda io mi ho viste tante e non so se se ce n'è una che preferisco alle altre devo essere sincero a me piacciono anche queste ultime tre che abbiamo fatto molto ridimensionate perché abbiamo dimostrato che nonostante tutto nonostante tutto copiando una frase del progetto aggiunta mi sembra che fosse con terremoto con guerra e con pace questo torneo si dice questo torneo si fa contro tutto alcune volte abbiamo davvero rassentato l'incoscienza nel parare lo stesso contro tutte le aspettative tutte le congiunture negative del mondo alla fine siamo riusciti siamo riusciti ad arrivare a 41 io ho un debito naturalmente verso i miei genitori e fino a quando avrò la forza e la possibilità continuerò a farlo insieme ai miei fratelli che poi come tutti sapete sono quello che appare ma poi i veri registi sono Sergio e Franco e io e Carlo siamo siamo due unili comprimati vabbè ci vuole una collaborazione dei multipla per ottenere certi risultati altrimenti non riusciremo noi dimmi ti mando i saluti di Lino Lardo che ha detto ma perché non mi hanno invitato allora Lino Lardo non lo abbiamo invitato per un motivo semplicissimo il primo è che Trapani è stato ripescato un po' dopo e tu sai che noi per me l'obiettivo primario è avere le quattro squadre del torneo e quindi a maggio a giugno noi eravamo già pronti e siccome avevamo Matera come quarta squadra quarta squadra diciamo che era quella che veniva da più lontano c'è Gianni Benedetto che è un mio fraterno amico e a Matera poi sono anche legato effettivamente per averci giocato due anni abbiamo deciso di sposare innanzitutto la causa di avere due squadre di Gold e due squadre di Filder altrimenti il torneo sarebbe stato un po' sbilanciato avere tre squadre di Gold assolutamente e per campione la viola sicuramente insegna di questi tempi perfetto perfetto certo io mi auguro che siano come al solico devo essere sincero raramente abbiamo visto delle partite con scarti incredibili sono state sempre combattute il che vuol dire che abbiamo sempre scelto bene le squadre io mi auguro di qui a qualche anno a qualche mese a un anno non lo so di riuscire a ritornare ad avere squadre di prestigio internazionale in modo di regalare alla città di Reggio un proscenio molto importante perché so che le persone sono affamate di basket tenendo presente che in ogni caso ci sarebbe sempre un'uscita la prima uscita ufficiale della viola diciamo in ogni caso dovrebbe ammere a figlio ce lo auguriamo tutti ce lo auguriamo tutti perché è veramente un palcoscenico importante per la città e lo è da ormai veramente quasi mezzo secolo Cesare ti salutiamo ti ringraziamo e siamo all'appuntamento chiaramente al tuo torneo come ogni anno al mio torneo al torneo Sant'Ambrogio non è il mio torneo è il torneo di tutti è il torneo della città di Reggio guarda mi allargo proprio stasera sono tutti a mode tutti sabato alle 19 a mode ciao Cesare buona serata va bene ah una cosa volevo dire scusami in conclusione posso prima del torneo anche se in tono molto minore faremo due amichevoli tra delle vecchie glorie le vecchie glorie calabresi contro le vecchie glorie siciliane ed è un modo per per rinsaldare vecchie amicizie che abbiamo ricostituito ultimamente peccato che non sono peccato che non sono abbastanza gloria per essere convocato no non sei abbastanza vecchio perché di gloria ne hai da rendere con una parrucca sei un'ottima gloria facci qualche convocato facci sognare no che è che sognare io ho cercato di coinvolgere un po' di gente però hanno tutti un po' di di timore a mostrarsi su un parcheggio prima del torneo magari se avessimo fatto qualche incontro preparatorio sarebbe stato meglio però io da Catanzaro viene Mimmo Mancuso Cicciopendo Gualtieri c'è gente Messina c'è gente c'è allora via anche se poi non è uno diciamo uno scoop però ci sarà presente il capitano dell'intercontinentale Messina che è stato la prima squadra a vincere il torneo Sant'Ambrogio si giocava a Santa Caterina nel dicembre del 1970 quindi pensate un po' Salvatore Furnari è il nome di questo personaggio che è un vulcanico ingegnere che è sempre attaccato alla palacanestro e alla famiglia Sant'Ambrogio si va bene va bene ho un bel siparietto prima ma speriamo che sia che sia dignitoso quanto meno no 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 va bene ah c'è Gio e Willy praticò giocherà è stato l'unico Mario Porto forse quindi stiamo cercando di fare io vorrei Gianni Speranza eh Gianni Speranza non so è impegnato con una finale di pesca ma una domenica dovrebbe essere speriamo speriamo tutti va bene ci ringraziamo Cesare grazie a voi arrivederci ciao ciao e quindi non dimenticate precampionato della prima regio la tappa fondamentale il Sant'Ambrogio quarantunesima edizione era la contro Matera però quest'antipasso veramente si è sempre stato il torneo Sant'Ambrogio il torneo in cui si si vedevano gli americani no perché sempre storicamente anche per motivi burocratici sin dai tempi antichi gli americani arrivavano un po' più in là arrivavano a settembre inoltrato io ricordo un torneo a Tamprogio con Maestranzi che giocò con le scarpe di un passante perché arrivavo senza le scarpe a basket e poi ricordo la Ranaga Sant'Ambrogio quell'anno poi vinse poi vinse addirittura l'Eurolega non vorrei dire una festeria ma comunque giocava giocava questa squadra vince il torneo io avevo fatto un accordo con Cesare che giocavo nella sua squadra quell'anno dicendo vabbè Cesare però mi devi fare premiare qualcuno ho premiato il miglior giocatore del torneo e Cesare prendendomi in giro gli sussurrava in inglese perché giustamente questo dice ma chi è questo qui che mi sta premiando cioè great shooter grande tiratore e quindi ho avuto l'onore e il piacere di premiare anche al torneo Sant'Ambrogio un bel giusto per tutti gli appassionati ai basket diceva benissimo Cesare Sant'Ambrogio vi consiglio di andare a vedere su YouTube la premiazione dell'Holo of Fame della Fibba di Oscar Smith Gloria della Juve Caserta dei vari gentili espositi dell'Agnello ha giocato anche a Pavia Gloria della Nazionale Brasiliana un giocatore estrepitoso dentro e fuori dal campo praticamente alla domanda perché non si è andato in NBA quando eri ragazzo lui ha risposto ero al stesso giro sarei stato scelto chissà con quale numero non ne valeva la pena poi a 35 anni quando hanno visto le mie statistiche mi hanno richiamato a quel punto ero troppo anziano beh uno dei casi in cui ancora l'NBA non era aperta come adesso era molto selettivo all'Europa era molto selettivo all'Europa scusate al mondo perché Smith era Oscar era brasiliano però la cosa la cosa pazzesca è che ora forse gli Stati Uniti l'NBA è un po' troppo aperta si vedono selezionati nigeriani mai visti nemmeno dai diretti interessati alle squadre ma vengono convocati in base a quello che viene suggerito da Oli Osservatori dall'Olasio buono di turno una volta invece era proprio così anche per questo magari tanti giocatori italiani non sono mai andati tranne Sposito e Rusconi già comunque ormai negli anni 90 ma Meneghin o Carlton Maier ce ne sono state gente che avrebbe potuto avere più successo del resto a proposito di video che si possono vedere once brother una volta fratelli il video di Divas e Petrovic Petrovic che era forse in quel momento il giudatore più forte Europa e se non fosse scomparso prematuramente sarebbe stato considerato il più grande forse europeo di tutti i tempi ha avuto difficoltà da ambientarsi negli Stati Uniti quindi c'era ancora un po' di scetticismo per quello che non era made in USA adesso si sono aperte un po' le frontiere e vediamo che già l'Italia può vantare ben 4 giocatori e come dicevo prima siamo solo all'inizio allora ricordiamo gli appuntamenti appuntamenti questa sera tra un minuto esatto si gioca l'amichevole Amatoio Messina Vistere Gio Calabria dopodiché amichevole nuovamente per i reggini in casa della Planet Canzaro i TNC al Palazzo Vino giovedì pomeriggio dopodiché sabato e domenica Torfetto Sant'Ambrogio in scena sabato alle ore 18 Viola contro Matera a seguire Capodorlando contro Barcellona chi vince volerà in finale il precampionato della Viola dovrebbe passare da un ultimo amichevole precampionato questa volta contro il Cus Messina formazione che sta provando a creare un roster molto competitivo per il prossimo campionato di Lega 3 la vecchia B2 con questo è veramente tutto ringrazio Gioacchino Granada grazie a voi e Carlo Vedere grazie a tutti da Giovanni Matici è veramente tutto con Touring Basket a martedì prossimo ciao se vuoi lo sport il posto è questo canta insieme a noi e gioca a Nesto tirala da tre sai che cosa c'è il portale più presto e lo demo day se vuoi lo sport il posto è questo canta insieme a noi e gioca a Nesto tirala da tre sai che cosa c'è il portale più grazie a tutti grazie a tutti